Dichiariamo e definiamo Un evento straordinario che resterà indelebile nella memoria e nel cuore dei cittadini torresi. A tre anni dalla canonizzazione di San Vincenzo Romano, la comunità di Torre del Greco ricorda e celebra il parroco santo. Era il 14 ottobre 2018, quando in una piazza San Pietro gremita di fedeli, giunti da ogni parte del mondo, Papa Francesco proclamava santo il parroco torrese Vincenzo Romano. Insieme a Paolo VI, Oscar Romero, Francesco Spinelli, Maria Caterina Casper, Nazaria di Santa Teresa di Gesù, enunzio sul prizio. In occasione del terzo anniversario della canonizzazione di San Vincenzo Romano, ricco il programma messo a punto dalla Basilica Pontificia di Santa Croce. Tre giorni di celebrazioni a tema, per adorare Gesù e Eucaristia, venerare la Vergine Maria e contemplare la cruce di Gesù. Giovedì 14 in programma il Santo Rosario alle 7 alle 9, la Santa Messa alle 7.30 alle 9.30 con adorazione eucaristica. Alle 18 il Santo Rosario con le meditazioni di San Vincenzo. A seguire alle 18.30 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Don Vincenzo Vitiello, parroco della comunità di Portosalvo. Alle 19.30 i Vespri e la benedizione eucaristica. Venerdì 15 agli stessi orari di mattina il Rosario e la Messa, di pomeriggio alle 18, il Santo Rosario alle 18.30 la Santa Messa. A seguire la via Crucis, animata da giovani e giovanissimi della parrocchia. Sabato 16 si ripropone lo stesso programma per il Santo Rosario e la Santa Messa di mattina e di pomeriggio. In chiusura alle 19.30 il concerto musicale dei maestri Parisi e Falcini. In chiusura alle 19.30 il concerto musicale dei maestri Parisi e Falcini. In chiusura alle 19.30 il concerto musicale dei maestri Parisi e Falcini. In chiusura alle 19.30 il concerto musicale dei maestri Parisi e Falcini. In chiusura alle 19.30 il concerto musicale dei maestri Parisi e Falcini. In chiusura alle 19.30 il concerto musicale dei maestri Parisi e Falcini. In chiusura alle 19.30 il concerto musicale dei maestri Parisi e Falcini. In chiusura alle 19.30 il concerto musicale dei maestri Parisi e Falcini. In chiusura alle 19.30 il concerto musicale dei maestri Parisi e Falcini. Grazie a tutti.